ciao da luci oggi voglio farvi con grande gioia una recensione molto speciale perché sarà la mia prima recensione della nuova merceria italia artisan sono felicissima di questa cosa io è da moltissimo tempo che collaboro con italia artisan ma è un po cambiata la cosa nel senso è ancora uguale è ancora italia artisan lo shop dove voi potete acquistare a lotti i filati ice yarns quindi quello shop esiste ancora e potete andare avanti ad acquistare lì tutti i vostri filati a lotti ma la mia amica francesca ha aperto anche un e commerce quindi dove ha filati in stock anche acquistabili a singolo gomitolo cosa che a me piace tantissimo perché se voglio fare un lavoro con piccole quantità oppure con più colori non sono diciamo obbligata ad acquistare un lotto intero anche se io devo dire la verità a me è sempre piaciuto comprare lotti anche perché io sbaglio sempre le quantità e con lotto vado un po più sul sicuro perché sono sicura che insomma non non sbaglio ma la mia amica francesca che è più brava di me mi sa consigliare quando mi servono le quantità di piccoli gomitoli quindi piccole quantità da poter acquistare non all'otto ma proprio a gomitolo e oltre ad avere la qualità e la bellezza dei filati ice ora ha integrato anche guardate qui i filati drops infatti lo vedete anche scritto qua su questa rivista e ha integrato nella sua merceria anche i filati drops che provo per la primissima volta e vi dico che sono veramente ma veramente molto felice di usarli perché ho potuto toccarli con mano e sono veramente straordinari non ha solo questo la merceria Italia Artisan ha anche accessori quindi da lavoro come questi bellissimi uncinetti e ferri per la maglia insomma io vi consiglio di andare a visitare lo shop la merceria Italia Artisan perché veramente troverete tanta bellezza e qualità e soprattutto la cortesia di Francesca che vi saprà aiutare in descrizione poi vi lascerò tutti i link in modo da poter visitare sia lo shop classico Italia Artisan con l'acquisto per l'acquisto di filati ice in lotti sia il nuovo e-commerce Italia Artisan merceria dove troverete appunto tutto quello che volete al dettaglio e non all'otto adesso però vi faccio vedere subito questi bellissimi uncinetti che apro insieme a voi eccoli qua ma sono meravigliosi allora si chiamano drops circus ed è un set da 9 uncinetti in questa bellissima confezione guardate che bella con la zip stupenda la apriamo ed ecco qua la magnificenza io sono una patita di uncinetti per me è come dare le caramelle quindi questi sono spettacolari allora non sono i soliti uncinetti in gomma ma sono in plastica guardate sono veramente stupendi sono in plastica ma è una plastica antiscivolo e hanno un'impugnatura molto piatta vedete da questo lato l'uncinetto è largo per poter vedete appoggiare bene il nostro pollice comunque le nostre dita sia che noi impugniamo così a coltello sia che impugniamo a penna vedete c'è proprio è comodo è veramente comodo sono in alluminio quindi ricoperti di plastica e sono super leggerissimi molto più leggeri di adesso vi faccio vedere proprio vi faccio il confronto vediamo questo è un qua ecco allora questo è un 4 e mezzo vi prendo la stessa misura così che voi possiate vedere proprio la differenza allora questo è un 4 ergonomico in gomma questo è un 4 in plastica antiscivolo vi assicuro che la differenza di peso è notevole e vedrete anche l'impugnatura guardate diciamo che c'è una certa differenza quindi non abbiamo più tutto questo ingombro da tenere in mano ma vedete è veramente tutto molto molto più equilibrato ecco come lunghezza della punta siamo lì più o meno siamo lì e quindi sono comodissimi se chi si è trovato sempre bene con questi con questi altri si troverà notevolmente meglio proprio per la leggerezza e per il fatto che l'impugnatura è molto meno ingombrante quindi vedete la differenza è notevole ve lo assicuro anche tenendoli in mano la differenza è notevole abbiamo questo bellissimo questa bellissima custodia per riporli guardate bellissimi e io li richiudo e me li metto nel mio nella mia stanzetta dei giochi ora vi faccio vedere invece questi bellissimi gomitoli allora sposto anche la rivista perché diamo spazio a quelli che sono proprio i gomitoli io ho voluto per il mio prossimo progetto prendere questi due colori allora si chiama drops saffran è un 100% cotone vediamo subito le caratteristiche io sapete che non sono bravissima con queste cose ma ci tenevo a farvela perché veramente mi piace molto questo filato e volevo farvelo proprio conoscere per chi non lo conoscesse e vedere nello specifico per chi invece già lo conosce allora un gomitolo è da 50 grammi per ben 160 metri quindi ha una resa veramente altissima la cosa che mi piace molto di questo cotone a parte il fatto che è fresco e morbido quindi è comunque molto morbido e che è ritortissimo io adoro i filati super ritorti perché durante la lavorazione non rischio di prendere dentro i fili con l'uncinetto qua mi dà un uncinetto 3 mm allora poi dipende dalla nostra mano è perché come si dice se abbiamo una mano un po più strettina possiamo usare anche un 3 e mezzo se abbiamo una mano più larga possiamo anche usare volendo il 2 e mezzo per avere un lavoro molto compatto però mi sembra che il 3 sia l'uncinetto giusto io l'ho voluto prendere in bianco e in verde e chi mi conosce lo sa che io amo il verde quindi non potevo non prendere questo bellissimo verde vi dico la verità lo adoro lo adoro tantissimo infatti la mia prossima creazione e la prossima creazione che vedrete sul mio canale sarà proprio un progetto fatto con questo bianco e questo verde uniti e proprio per questo vi dicevo la caratteristica di questo nuovo Italia Artisan che non va comunque lo ripeto sempre ad escludere lo shop a lotti questo nuovo e-commerce questa nuova merceria ha proprio la è come proprio la classica merceria quindi possiamo comprare a singolo gomitolo quindi se io voglio fare questa maglia a righe bianca e verde compro un tot di gomitoli bianchi e verdi vedete io ne ho presi 200 grammi di verde e 200 grammi di bianco non so ancora quanto ne userò ma penso che basteranno saranno più che sufficienti se io voglio farlo con 3-4 colori nessuno mi impedisce di prendere un gomitolo di ogni singolo colore quindi sta a noi decidere la quantità quindi non comprando a lotti ma comprando a singolo gomitolo fattovi vedere questo vi faccio vedere un'altra cosa che ho preso ed è questo allora drops loves you 8 quarti sempre un bellissimo cotone anche questo veramente molto 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 bello guardate è freschissimo anche questo ritortissimo ma veramente ritortissimo e ripeto a me i cotoni ritorti strapiacciono anche questo cotone è fantastico e vi dico che questo è vi chiedo scusa leggermente più spesso ma di pochissimo perché questo come lavorazione in uncinetto mi dà comunque il 3,5 mm se devo metterli a confronto devo dire che la differenza è veramente minima veramente veramente minima guardate è proprio minima quasi impercettibile e ve l'ho confrontato col safran di prima e devo dire veramente fresco veramente molto ben ritorto è un filato molto molto bello vi stavo dicendo la metratura quindi ogni gomitolo è da 50 grammi per 170 metri quindi ha anche una metratura più ampia del safran veramente molto 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 bello anche questo un 100% cotone veramente bellissimo e queste due tonalità io ho preso il bianco e questo bellissimo blu che in realtà sembra non è proprio blu 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 è un blu chiaro comunque sembra quasi un jeans sembra quasi un un celeste molto scuro ecco perché il blu nel mio immaginario il blu è un po' diverso questo è più un celeste scurissimo molto tendente al jeans molto molto bello quindi io devo dire che sono felicissima e anche di questo ne ho presi sempre 400 grammi perché per le nostre creazioni estive penso che siano più che sufficienti ora non so se questi li userò insieme o separati ma guardate anche volendo fare un bel mix guardate che belli questi colori tutti vicini quindi adesso io metto vicini tutti i miei gomitolini mi è caduto un uncinetto non fa niente non erano quelli nuovi quindi può cadere metto vicino tutti i miei gomitoli e vi saluto invitandovi a guardare in descrizione dove vi metterò i link sia di dello shop italia artisan con vendita ice alotti sia del nuovo e commerce merceria italia artisan dove troverete gli accessori i filati drops bellissimi e i sempre bellissimi filati ice yarns con vendita al dettaglio quindi non alotti ma a singolo gomitolo io vi saluto vi mando un bacione grande grande vi invito quindi ad andare a visitare gli shop a venire a trovarmi sul gruppo facebook creando e chiacchierando con luci dove io vi intratterrò con le mie stupidaggini queste erano le cose serie ciao ciao da luci a presto